Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Totò Schillacci ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti, non solo per le sue imprese calcistiche, ma anche per il profondo affetto che provava per i suoi tre figli, nati da due matrimoni diversi. Dal primo matrimonio con Rita Bonacorso sono nati Mattia e Jessica, entrambi lontani dal mondo del calcio nelle loro scelte professionali. Mattia, il primo genito, ha deciso di intraprendere la carriera medica e attualmente studia odontoiatria in Portogallo. Nonostante la distanza, ha sempre mantenuto un forte legame con il padre, portando con sé i valori e l'affetto che Schillacci gli ha trasmesso. Jessica, invece, è una giovane donna determinata che ha scelto di dedicarsi all'infermieristica. Dopo essersi laureata a Verona, si è affermata in un settore impegnativo, mettendo in pratica la sua dedizione e il desiderio di prendersi cura degli altri, probabilmente ispirata dalla forza e dalla tenacia del padre. Dal secondo matrimonio con Barbara Lombardo è nata Nicole, la più giovane dei tre figli. Attualmente frequenta il liceo artistico e ha ereditato dal padre non solo l'amore per la vita, ma anche una grande passione per l'arte. Un interesse che Schillacci incoraggiava con affetto grazie al suo carattere gioioso e sempre pronto alla battuta. Nonostante il divorzio e la separazione dai figli più grandi, Schillacci è sempre riuscito a mantenere un legame forte e affettuoso con loro, dimostrando costantemente amore e sostegno. La sua dedizione alla famiglia resta un esempio di grande amore paterno. Qual è il tuo ricordo di Totò Schillacci?